Ciao ragazzi e ragazzi eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video ed eccoci qua Oh ormai lo sapete se c'è una cosa inutile che immettono nel mercato io devo assolutissimamente comprarlo in quanto super necessario Ok e quindi oggi vi faccio vedere e facciamo insieme l'unboxing di questa bellezza che ho comprato scorsa settimana Ci ha messo due giorni lavorativi quindi siccome l'avevo presa venerdì ci ha messo super giù cinque giorni ad arrivare Ma si tratta di un nuovo telefono ok e sono vestito per l'occasione di rosa poiché andiamo ad unboxare il telefono di Barbie Lo so raga è una cosa inutile e adesso vedrete il perché l'unica cosa è che è super estetic Quindi questo telefono è stato creato dalla Mattel in collaborazione con Nokia e in questo caso HMD Che dovrebbe essere l'azienda che produce i telefoni Nokia a regola Andiamo allora ad unboxare perché non ne posso più ok Perché voglio proprio vedere Cosa ci è all'interno e cosa ci possiamo aspettare No Eccolo Raga è bellissimo è un telefono anni inizi 2000 Di quelli a conchiglia Rosa ovviamente sponsorizzato Barbie E loro lo hanno sponsorizzato dicendo è un telefono che vi serve per fare un po' di detox no? Dato che qui dentro non puoi andare in internet non puoi andare sui social ma funzionano solo chiamate e messaggi Ora io mi dico l'utilità no? Per averlo comprato dato che costa 129 euro Per farci il video raga perché voi sapete quando uscì Barbie l'anno scorso io fissatissimo comprai qualsiasi cosa la linea di Primark le bambole addirittura che ho ancora qua di Barbie the movie Questo è Ken poi Barbie ce l'ho dall'altra parte però è troppo lontana Insomma c'ero fissato e la mia domanda è questa Come mai avete aspettato un anno prima di farlo uscire? Se lo facevate l'anno scorso sa che boom Vabbè Comunque la scatola HMD Barbie phone a real phone without the distraction è molto fancy molto carina E secondo me ora a parte gli scherzi se fosse costato tipo 79 euro 89 massimo L'avrei spesi molto più volentieri e soprattutto potrebbe essere un primissimo telefono per le bambine Dato che tutte le bambine e i bambini di oggi hanno l'iPhone e i genitori si svenano per comprarglielo E secondo me sbagliano perché così non capiscono molto il valore dell'oggetto in sé Raga bambini bambine gli fate sto telefono messaggi telefonate è fancy basta A chi gli serve un bambino di 8 anni un telefono se non per giocare e per mandare messaggi alla mamma? Per quello ma andiamolo adesso ad aprire Mi servirà qualcosa Mi servono le forbici Sono troppo emozionated per questa ennesima cavolata che non userò mai Ecco mi si è rotta la scatola Lo sapevo Andiamo a vedere No raga Io adoro Perché Bella Oh my god Jesus Christ Superstar No Raga ma questo è un portaguoie Allora cosa c'è all'interno? Il telefono che è questo qua Ah me l'aspettavo più grande Allora qui c'è lo specchio Poi c'è anche una fotocamera col flash tra le altre cose Dietro c'è la sua cover Barbie rosa shocking e si apre così No è morto E' bellissimo E' stupendo E poi che utilità Lo specchietto così Ora lo accendiamo eh Però andiamo a vedere poi che cosa c'è in più Perché abbiamo Ah altri due cover Intercambiabili Una così E una così Bellina Questa mi piace molto Belle Molto colorate Perché così almeno si può cambiare E dopo si proverà il tutto Ma in questo portaguoie c'è anche No bellissimo Da attaccare al telefono Così Un ciondolino Ok Bellino Carino Ora Se io dovessi fare una cosa Lo vado a alzare Ah abbiamo anche il secondo scompartimento No Ma ci sono altre cose qua sotto Allora Questo dovrebbe essere il caricatore Ovviamente rosa Poi abbiamo Mille cose Qui c'è il pannettino per pulire lo specchietto E abbiamo anche No mamma raga Ma che bellini questi Ciondolini Allora c'è il pannettino di Barbie Poi abbiamo il cuore di Barbie Poi abbiamo anche un gelato Questo è un gelato E poi abbiamo gli occhiali Bellino E ovviamente la palma Ma dove vanno messi questi ossi? Si capirà Fatto sta che non è finita qua Perché all'interno c'è anche la batteria del telefono Questa ci servirà E poi No ragazzi I sticker E i brillantini Per personalizzare al meglio il telefono Ma che bellino No qui ci devo fare 800 miliardi di TikTok Assurdo Ma che bello E poi come ultima cosa Abbiamo tutti i fogliettini con le guide Ok E questo vabbè Non ci interessa Mettiamo la batteria E accendiamo sto telefono benedetto Innanzitutto Puliamolo Con il suo pannetto Ok Ora La sua batteria è questa Io ragabo Oh mamma ma com'è carina Tutta rosa shaking Come si apre sto osso Sono lui Eh raga È da un po' che non ho un telefono In questo modo A regola così O forse così Ah ok Ci siamo Rompilo subito Ok Oh Oh C'è il doppio slot Per la doppia sim O nano sim Made in China Ecco Speriamo Mettiamoci La nostra Batteria Batteria Così Richiudiamola Così Come si accende Essendo voi C'è da capire C'è da capire Sento così No Ah ma io non avevo Mi ha visto che I tasti sono super Soffici Forse con la B di Barbie Si accende O forse con questo Non dà segni di vita Scusami Eccolo Eccolo Dovrebbe far rumore Hi Barbie Ma hai a te Ma che bello No Vabbè raga Hi there Let's get set up What's your language Ora se non c'è l'italiano Mi ingazzo Vuoi impostare Data e ora Adesso Puoi cambiarle Sì Ok Sì va bene La modalità accessibile Aumenta la dimensione Dell'icone No Off Via Grazie per aver scelto HMD Barbie Phone Continuando Accetti l'informazione L'informativa sulla privacy globale Sì Continua Sì Hai ricevuto la chiamata persa da Ken Ma è morto Ma Ok Aggiungi Ken ai contatti Sì Ci posso mettere il numero del mio fidanzato Cioè te lo fa subito Te lo scrive già Ken E poi ci aggiungi un numero No Io voglio morire Compleanno Suoneria A casa Morto Allora Andiamo a vedere un po' il menu Noi pigiamo qua No bellino È un menu personalizzato Ma è super Qui ci sono Messaggi Rubrica Galleria Fotocamera Agenda Musica Musica Sveglia Sveglia Internet Ma allora va su internet Scusa Allora Aspetta un attimo Proviamo a fare Fotocamera Attendere prego Mamma mia Quanto è brutta Quanto è brutta Stas fotocamera E come si fa Andarla a vedere Aspettate perché c'è Impostazione fotocamera Esposizione, vabbè, quella Effetti Normale, bianco e nero Blu, verde Morto Giallo, rosso Questa che colore è? Tela No Ma io voglio Voglio morire Raga, aspettate perché c'è Cornice di Barbie Oh mio Dio Aspettate Ora però io dove vado A vedere Galleria Vabbè, le foto le fa così Raga, dov'è quella della cornice? Perché non me l'ha messa? Non me l'ha fatta Ce la rimettiamo? Non c'è problema Cornice Barbie C'è questa? Seleziona Ah, non l'avevo selezionata Scusa Però scusa Il flash Alta qualità Suono flash Ok, flash Guardiamo come fa il flash Eccolo Perché si possono fare anche i video Così? No, va bene morto Aspetta 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 Com'è? C'è? Ma sta facendo? Sì! Ok Ciao Darby Ciao Darby Voglio morire Ma io voglio morire Ma è bellissimo Aspettate Mi vede internet Internet non fa Ma le impostazioni Ah, vedete? C'è anche Calcolatrice Torcia Radio Video Impostazioni Questa che è? Malibu Snake No Ragazzi 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 C'è Snake 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 C'è? Voglio morire Aspetta C'è un pallone Prendi il pallone Muoviti L'ho preso No Ciao Io starò per sempre così Ma è bellissimo Ma io lo amo E dopo cosa c'è? C'è anche Registratore vocale Questo che è? Varie File Mediazione con Barbie Consigli per l'equilibrio digitale Contatori E basta Cos'è mediazione? Ah Meditazione No Mediazione con Barbie Medita con Barbie Basta impostare il tempo desiderato Per la meditazione E si sentirà un delicato suono di gong All'inizio e alla fine della sessione Morto Ma Inutile per me Però Bellissimo Varie cose c'è Conto alla rovescia Cronometro Torcia Convertitore E basta Malibu Snake C'è solo questo di gioco Ok Bellissimo Messaggi Invia un messaggio a qualcosa Sono messaggi normali L'unica cosa è internet Scusa Perché mi dici che c'è internet? Connettività Bluetooth Doppia sim Tipo di rete Si prega di inserire la sim Ah Bisogna inserire la sim Ah Nel senso che forse ti va Su Su internet Ma non ti fa scaricare le cose Perché non trovo L'app store Insomma Quindi è perfetto Vabbè Sai cosa Per i bambini È super Ma Ti immagini Hi Barry Ciao Bello Aio Bello Proverso perché è bellino Inutile Ma bellino Carino Proviamoci le altre Anzi Possiamo metterci questo Ma E tu mi ha messo Sando In scusa Perché io non capisco Ma Secondo voi Qua Ma E come fai Ho tolto questo Probabilmente Cristiano Devi togliere questo Qui se non hai l'ugne No Sì Vedete C'ha questo tastino Lo metti così A regola Dovrebbe essere così Ci dovrebbe Entrare E poi la richiudi Però In questo momento Cambiamola E mettiamoci questa No No Raga Ma che carino Lo amo È bellissimo È l'amore della mia vita Peccato che non va su Whatsapp Almeno Whatsapp Mi serviva Ma aspettate C'è uno schermo Qua Che Non so se lo vedete Non so perché Lunedì gennaio 10 0008 Ma Morto Bellissimo Raga Bellissimo Fatemi sapere Inutile Ma bellissimo Però se avete delle bambine Delle figlie Secondo me è perfetto Bello 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 Fatemi sapere Se volete Magari possiamo fare un video Magari su T-T-T-O Che così Dove lo personalizziamo Ci mettiamo Tutte le varie I vari strass Le varie cose E fatemi sapere anche Assolutissimamente Quale Delle tre cover A disposizione È la più bella Mamma mia Raga Ma che bello Questo Può essere un telefono Per gente Che non deve essere Sgamata Bello Lo amo Allora L'unica cosa brutta La pecca di questo telefono È Costa troppo Nel senso 129 euro Però Cioè Se costava 79 Sarebbe stato perfetto Capisco Che è stato Fatto Per le bambine Ovviamente E per chi Ha bisogno Di un po' di detox Dai telefoni normali Però un minimo di internet Mettimelo Un whatsappino Mettimelo Perché se no È proprio inutile Perché noi Usiamo whatsapp Non usiamo messaggi normali Raga Però per il resto È super carino Mi piace È l'esima cosa Inutile Comprata Chissà che fine farà Ora Bello Quanto è bello Che si apri così Posso stare tutto il giorno A faccio È il ritorno Dei telefoni a conchiglia Nulla Vabbè Fatemi sapere Magari se lo comprate A vostra figlia O se vostra figlia Una volta aver visto Questo video Se ne è innamorata Fatto sta Io gli do Un bel Sette Nove Assoluto Per la scocca Per i colori Per tutti gli accessori Sette Perché alla fine È un telefono inutile Per noi Che ci serve Un minimo di internet Ma per i bambini Può essere Una cosa super divertente Bello 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 Mi piace Insomma raga Avete da fare un po' Qua sotto Tramite Nei commenti Fatemi sapere voi Se comprereste Questo telefono Vedete La cosa bella Che io Sono pazzo Per lo shopping E di tutte le osse Che escano Devo comprarle È questa Che ci faccio video Perché così Almeno le compro io E voi non le dovete comprare Vi salvate i vostri soldi Però Devo capire Se possiamo fare Non è touch No Ah no C'è solo il volume Delle suonerie E basta Vabbè Carino Vabbè Nulla Questo è un video inutile Come questo telefono Però super carino Fosse uscito L'anno scorso Sai quanti milioni Di pezzi Avresti venduto Adoro Bellissimo Fatemi sapere Se a qualcuno L'hanno mandato gratis Perché se no Ben cavolo E nulla Ci vediamo domani Prossimo video Un po' Inutile come questo Ciao